buongiorno e grazie davvero di essere qui noi come credo si veda siamo piuttosto agitate anche emozionata l'idea di intervistarla e quindi per rompere il ghiaccio le volevamo chiedere come faccia lei ad essere sempre pronta per interviste o servizi o se ci siano state delle situazioni che l'hanno messa in difficoltà allora io ho cominciato e ho cominciato ed ero esattamente come voi emozionata nervosa sperando che chi doveva intervistare dicesse di sì che chi doveva intervistare venisse che e e sono cose che non si dimenticano quindi i colleghi so che hanno bisogno so che che la gente curiosa mi piace questa curiosità non c'è nessun motivo per cui debba sottrarmi se posso voglio dire se ci sono le le possibilità sono siamo una melezza siamo qualche foscari meraviglioso siamo assieme e quindi benissimo lei è stata la prima a raccontarci lo scoppio della pandemia e volevo chiederle a questo proposito come ha percepito il suo ruolo in quel momento e qual è secondo lei la responsabilità dei comunicatori come intermediari tra gli specialisti e il pubblico è stato è stato molto complicato e io credo che in questo momento di di pandemia un momento che non è ancora finito il ruolo nostro ruolo di giornalisti sia stato importante strategico positivo e insieme negativo e pericoloso come non mai il il ruolo nostro è spesso quello della cassandra io ho fatto l'inviata di guerra ho coperto la politica estera per tantissimo tempo e mi sono trovata molte volte nella situazione di dover raccontare degli eventi dicendo che le cose stavano andando male e che sarebbero andate ancora peggio e dall'altra parte in qualche modo di non essere creduta di di non essere non dico ascoltata ma almeno valutata nella gravità delle situazioni che che racconti e in realtà questa pandemia è stata è stata la stessa cosa noi abbiamo cominciato a vederla quando sui social cinesi sono apparsi i primi appelli disperati dei medici dell'ospedale di Wuhan che dicevano c'è questa polmonite virale misteriosa la gente muore non capiamo e mano a mano c'è stato un crescendo e quindi abbiamo vissuto l'incertezza la paura il terrore poi quando la gente ha cominciato a morire la mancanza di posti letto la gente intubata la gente chiusa nelle case nelle strade abbiamo vissuto tutto questo da dicembre gennaio febbraio raccontandolo raccontandolo con l'idea che chi ti stava ad ascoltare pensasse che in realtà era qualcosa che sarebbe rimasto solo in cina perché in cina sono sporchi perché mangiano i pipistrelli e poi la cina e poi il giappone ma si è l'asia e poi vietnam e poi gli altri paesi ma è l'asia non arriva non arriva quando invece questa onda lunga no come nei film di paura stava arrivando stava arrivando stava arrivando e febbraio marzo è arrivata anche in italia ed è stato come vivere tutto una seconda volta perché poi è la stessa cosa all'improvviso all'improvviso perché il virus all'improvviso scoppia la gente arriva negli ospedali che non riesce più a respirare e i letti si riempiono e i camion militari partono con decine e di cadaveri a questo proposito lei è stata corrispondente per alcuni dei momenti più determinanti della storia contemporanea tra cui appunto la pandemia e ci domandavamo se fosse in grado di scegliere una sorta di notizia di apertura per raccontare questi ultimi 30 anni se le sembra che ci sia stata una notizia particolarmente importante da questo punto di vista che le sembra racconti questo periodo possa essere un manifesto per questo periodo diciamo appunto una notizia di apertura questi 30 anni sono successe talmente tante cose e tante cose importanti che hanno cambiato la nostra vita cambiato il modo di vedere la nostra vita che non che non potrei davvero davvero dire una principale perché in qualche modo ci sono stati dei 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 momenti dei momenti decisivi quello che mi colpisce sempre è in qualche modo la storia che ci costringe a confrontarci di fronte a le cose drammatiche la pandemia è l'ultima ma prima c'è stato non so il terrorismo dall 11 settembre in poi gli attacchi terroristi la guerra afghanistan l'invasione l'invasione dell'iraq questa europa che dopo l'89 in qualche modo cambia si scioglie collassa si si ricrea e quello che a me colpisce e questo per ricollegarmi anche la domanda suono sul ruolo della della comunicazione quello che mi colpisce sempre e forse per l'osservatorio privilegiato anche se strategicamente infelice come quello della cassandra della giornalista e la possibilità che ogni volta di fronte alla storia noi l'umanità ha di scegliere la strada da da seguire e la pandemia ci ha spinto a giustamente no a chiedere aiuto alla scienza per dare delle risposte che noi non eravamo in grado di darci e improvvisamente scopriamo che la scienza è qualcosa che non potrà aiutarci al cento per cento ma è uno strumento e che probabilmente anche la scienza è fatta di di uomini in carne ed ossa con narcisismi debolezze insicurezze come noi e quindi qualcosa che che vedevamo come un masso monolitico a cui appoggiarsi nei momenti così forse si è rivelata si rivelata diversa sicuramente quello che noi abbiamo fatto probabilmente domani potremo rifarlo in un modo diverso migliore sicuramente anche l'informazione della comunicazione ha contribuito a questo clima di incertezza di insicurezza ha dato messaggi contraddittori ha dato certezze che il giorno dopo diventavano fake news e questo anche ha contribuito ad un clima di grande diffidenza no che in questo momento regna diffidenza nei confronti della informazione ufficiale e per tornare al tema invece del di quello che è successo negli ultimi trent'anni io penso soltanto all'afghanistan perché è qualcosa di cui in qualche modo possiamo fare avere un bilancio io ho seguito l'afghanistan vent'anni fa nel momento dopo le torri gemelle io stavo in pakistan e poi a kabul dell'invasione dell'afghanistan e l'ho vissuto adesso essendo la corrispondente dell'asia con il tracollo ed è in qualche modo la storia che quella sia differenza di tutto è implacabile ti dà delle risposte che sono delle risposte certe i dubbi grandi di vent'anni fa su questa invasione che c'era stata presentata come una grande straordinaria vittoria della libertà e della democrazia che veniva portata a questo a questo popolo afgano assieme al sogno di benessere si infranta nei confronti della realtà ma se tu guardi e rileggi le cronache di vent'anni fa quello che vent'anni fa si raccontava è stato puntualmente confermato dalla storia gli errori la retorica di guerra gli interessi spregiudicati dietro a quello che è stato fatto sono stati puniti dalla storia ed è abbastanza straordinario per per un giornalista che segue purtroppo la cronaca non la storia poter assistere in qualche modo ad un corso così preciso un inizio alla fine di di un evento e dall'afghanistan noi abbiamo spero imparato delle lezioni che dovrebbero essere fondamentali per il nostro futuro rispetto all'uso della guerra all'uso delle armi rispetto all'approccio che tu hai con mondi diversi con culture diverse religione diverse questa idea no del dell'esportare la libertà e la democrazia e questo questo mondo che è grande e che non è fatto soltanto di europa e di america e di occidente ma è un mondo pieno di sua citature pieno di contraddizioni con cui tu devi fare i conti l'altra lezione e che noi abbiamo sempre conosciuto evidentemente in europa il messaggio americano anche perché noi no qui siamo siamo cresciuti con gli americani che hanno liberato liberato l'italia seconda guerra mondiale con quindi con questa immagine forte siamo cresciuti con i loro film la loro letteratura e improvvisamente scopriamo che c'è un'alta grandissima potenza la cina che si muove su traiettori e su strade completamente diverse ed è sull'afghanistan che l'abbiamo scoperto l'idea americana no di liberare un popolo di portare la libertà la democrazia in realtà sono arrivati a caccia di bin laden bin laden se n'era andata si sono ritrovati in un paese hanno detto e adesso cosa facciamo si sono trovati in quel paese in armi perché in armi sono trovati in in quel paese e quindi in qualche modo si è cercato di costruire qualcosa dall'altra parte tu hai l'esempio cinese che non arriva mai nei paesi con le armi ma con le valigette piene di denaro che ha un approccio pragmatico nel senso volete velare le donne velatele volete sposarle a 12 anni non è affar nostro affar nostro è l'accordo per costruire il ponte la strada la casa quindi una visione del mondo diametralmente opposta con un messaggio diametralmente diverso di fronte al quale noi dobbiamo confrontarci perché questo è il nostro futuro questa è la nostra realtà chi vogliamo essere è una scelta molto difficile quella quella che viene fatta è una sconfitta in qualche modo di questa idea di guerra liberatoria in grado di portare e questo non si è visto questo non funziona non non credo che funzioni neanche l'altro esempio no di di annullamento dei diritti e di questa idea che in qualche mondo il mondo deve essere migliore e dobbiamo tutti lavorare per renderlo migliore quindi ci troviamo confrontati per soltanto questi vent'anni di fronte a degli interrogativi su 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 chi siamo su cosa vogliamo essere su cosa il mondo deve diventare che sono incredibili e pazzeschi e la comunicazione e l'informazione in questo processo è stata fondamentale in vent'anni noi abbiamo avuto un un apertura di accesso all'informazione pensasi soltanto coi social come si è aperto questo ci ha portato del bene o del male è tutto ancora da vedere tutto ancora capire ma credo che il nostro ruolo in questo processo sia importantissimo e sia importante ogni volta qualche volta lo dimentichiamo chiederci bene essere lucidi su quello che facciamo su quello che stiamo facendo è fondamentale avere una informazione libera mai come in questo momento mai come in questo momento in cui viene messa in crisi viene accusata di essere falsa l'informazione deve essere libera pulita e trasparente perché quello è l'unico modo per essere credibili e restando su questo rapporto tra storia globale e comunicazione volevo chiederle parlando alle future generazioni di comunicatori e di comunicatrici cosa serve per lavorare in questo ambito e dall'altro lato a cosa bisogna fare attenzione mentre ci si informa soprattutto nel rapporto a volte complesso tra giornalismo e social media tornerò ad una ad un dualismo antico tra struttura e sovrastruttura che però credo continui ad essere valido sempre per per quello per quello che facciamo io sono convinta assolutamente convinta che i social media siano uno strumento straordinario come tutti gli strumenti dipende dall'uso che ne fai il valore il valore che poi possono possono prendere e ricoprire quindi io penso a quello che hanno fatto i social media in siria che era un paese in guerra difficile da raggiungere in cui social media ci hanno fatto sapere quello che stava succedendo ci hanno raccontato quello che stava succedendo quindi è uno strumento straordinario è evidente è evidente che essendo nuovo va compreso va usato sfruttato nel modo nel modo migliore siamo siamo ancora all'inizio ed è chiaramente ed è chiaramente ed è chiaramente ancora confuso per certi versi cioè nasce comunque noi grandi i grandi giganti della silicon valley nascono su su prospettive comunque di sfruttamento e di arricchimento veloce molto cinese pragmatico calpestando qualsiasi idea di diritto e di rispetto bisogna riportarle all'interno dei social media queste idee di rispetto e di diritto proprio in un momento in cui paradossalmente stiamo parlando di libertà e da molto che non si sentiva questa parlora libertà improvvisamente parliamo di libertà e ad esempio il terreno di scontro sulla libertà green pass vaccini ecco anche su questo io credo che sia un momento e un'occasione straordinaria di di confronto cioè riprendiamo a discutere riprendiamo a parlare della nostra libertà confrontiamoci su quella che è la nostra idea di libertà e in quell'idea di libertà c'è anche il nostro futuro io credo che i social media possono molto aiutare ed evidentemente come come ogni strumento possono anche distruggere o dividere quindi io penso che il ruolo di chi fa comunicazione informazioni in questo momento debba essere strettamente strettamente rigorosamente lealmente onestamente legato ai fatti noi dobbiamo in un momento in cui si parla si parla si ipotizza noi dobbiamo offrire gli elementi su cui parlare su cui ipotizzare noi dobbiamo essere portatori di fatti di elementi di informazione non portatori di incertezza o di confusione e paradossale perché abbiamo tutto questo aspetto molto glamour dell'informazione per i comunicatori la televisione i nuovi blogger i soldi la fama c'è tutta una serie di cose che possono anche confondere il fatto che invece noi abbiamo un ruolo che per certe volte drammatico io penso agli altri comunicatori quelli che vengono uccisi perseguitati torturati in tanti paesi pensa a malta non sto parlando del centrafica pensa a malta a daphne caruana uccisa per un'inchiesta io inevitabilmente penso non so ai l'area alpi ai miei colleghi gente che è stata uccisa perché voleva informare perché voleva portare i fatti voleva portare l'informazione quindi se se posso dire in modo magari un po retorico e drammatico ai nuovi comunicatori a chi vuole fare informazione bisogna essere decisi agguerriti coraggiosi e inseguire la strada più difficile che quella della verità e della trasparenza e a proposito sempre di questo quindi dell'intreccio tra la sua professione e storia globale comunicazione se ci può raccontare se se lo ricorda del primo articolo che ha scritto confrontandolo con l'ultima diretta invece che ha fatto per raccontarci cosa è cambiato nel mondo del giornalismo intanto allora io devo dire che ho cominciato ho cominciato a scrivere come tutti quanti noi anzi noi della vecchia generazione che alle elementari facevano ancora i temi e riassunti voi avete un modo più raffinato di approccio all'italiano quindi probabilmente la prima cosa l'ho scritta alle elementari nel giornalino di classe e quello che mi è piaciuto sempre fin dalle fin da riassunto dal tema delle elementari fino all'ultimo pezzo che ho fatto l'ultima diretta che ho fatto la cosa che in più mi piace da fare da leggere e il racconto della storia perché credo che la storia ma la piccola storia riesca più di qualsiasi cosa a comunicare e dare l'idea della grande storia chiunque venga confrontato ad un grande evento ad una grande contraddizione di geopolitica tende a distaccarsi come qualcosa che non gli appartiene in fondo che si va bene ancora la piccola storia fa sì che ognuno di noi si renda conto che invece ci appartiene ci appartiene tutto ci appartiene la grande storia ci appartiene il paese così lontano perché perché c'è un essere uniti e non è la globalizzazione qualcosa di molto molto più forte della globalizzazione che ci rende simili tutti in ogni latitudine del mondo con le nostre diversità di storia di religione di cultura di società ci rende simili in quel che siamo veramente nei nostri sogni nel nostro amore nel nostro dolore la piccola storia fa sì che tanti ponti vengano costruiti e il mondo in questo momento come non mai ha bisogno dei ponti a questo proposito visto che parliamo di scuola ma anche di mondo internazionale noi volevamo chiederle lei ha un percorso diciamo piuttosto fluido a una laurea in filosofia e un dottorato in storia del cinema e al momento tanti giovani si trovano ad avere dei percorsi molto simili e come il suo molto internazionali quindi ci domandavamo se questo approccio e la sua esperienza la sua formazione internazionale abbiano l'abbiano aiutato le abbiano dato degli strumenti per affrontare il mondo in modo tale da costruire da costruire questi ponti di cui sta parlando da una consapevolezza diversa io io credo di sì non so se questo possa valere per tutti per me per me sicuramente per me vale devo dire ogni cosa che ho che che assurdo no perché quando sei a scuola oddio e palle i compiti le interrogazioni e poi improvvisamente scopri che tutto quello che hai fatto ti serve cioè aver studiato i lirici greci sembra paradossale e invece è invece servito perché ogni cosa ti aiuta innanzitutto il metodo devo dire studiare e il metodo di studio è la base per qualsiasi tipo di lavoro figuriamoci per per il lavoro del del giornalista che è un grande lavoro di studio permanente soprattutto chi fa chi ha specializzazione come gli esteri l'economia è uno studio permanente e continuo quindi lo studio che non che non finisce mai e che quindi si amplia si allarga e per allargarsi deve partire da un nucleo e ogni elemento di di questo nucleo ti aiuta in qualche modo perché è quello che in qualche modo devi cercare di fare e tenere insieme e trovare il filo che lega tutti questi elementi di questo immenso puzzle in cui siamo stati gettati in cui sembra che che tutto sia spezzato in cui sembra che tutto vada in direzioni opposte sia una sorta di esplosione o di implosione e in qualche modo tu devi ritrovare i fili io mi ricordo terzani nell'ultimo periodo quando stava quando stava molto male che a un certo punto mi disse mi sono svegliato stamattina e ho guardato il mondo e ho trovato questo questo filo questo filo che che lega le cose e che dà in qualche modo armonia alle cose io credo che il lavoro e la conoscenza aiutino aiutino a ritrovare a ritrovare questo questo filo soprattutto quando il filo corre attraverso mondi così diversi e apparentemente in contraddizione tu per ritrovare il filo devi conoscere devi conoscere l'altro devi conoscere l'altro senza senza paura senza 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 timore senza questo terrore che l'altro sia il tuo nemico che metta no in in discussione o in pericolo il tuo mondo le tue certezze devi aprirti devi aprirti devi in qualche modo buttare questo 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 legame per costruire il ponte e per far questo c'è bisogno di di conoscenza c'è bisogno di di scambio e c'è bisogno anche di apertura mentale senza paura allora ne approfitto visto che parliamo di apertura mentale e di un approccio aperto al mondo e al cercare questi fili che spiegano spiegano i motivi l'armonia generale c'è un modo diciamo come si approccia una notizia come la si trova come la si cerca come lei prima parlava di storie quindi come la si racconta come funziona da questo punto di vista allora io vi posso ricontare la mia esperienza ho cominciato a fare la ragazza di bottega di demetrio volcic vecchio corrispondente della rai da mosca quindi mi hanno mandato la ragazzetta appunto a preparare caffè a pulire i tavolini e e ho visto come come lavoravano i grandi corrispondenti di una volta notizia allora la notizia si prende e immediatamente si confronta con le fonti ufficiali governative le fonti dell'opposizione che poi a seconda dei paesi in cui tu ti muovi possono essere di vario tipo e poi con i colleghi più titolati ti confronti con la bbc con la france press con reuters e raccogli informazioni su quella notizia uno due tre quattro a quel punto tu hai la notizia il fatto hai molti elementi per poterla dare e cerchi di darla nel modo più esaustivo possibile e il metodo governo opposizione confronto con e credo sia la base del di di qualsiasi cosa cosa succeda cioè primo verificare verificare i fatti verificare la notizia prima di darla che è una cosa che sembra scontata ma proprio con i social media non è così scontata perché c'è questa ansia questa frenesia no di dare tutto subito e per primi che qualche volta brucia questa cosa necessaria della 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 verifica l'ultimo episodio non non faccio nomi ma grande grande giornalista improvvisamente nelle prime convulse giornate no dell'afghanistan ho appena ricevuto un video i talebani stanno uccidono una povera donna di 50 anni e quindi immediatamente poi scopri che il video è vecchio di cinque anni che non l'afghanistan no sono mosulle e allora voglio dire questo per tornare anche all'inizio deve essere fondamentale noi dobbiamo sempre verificare la notizia perché perdi di credibilità perdi di credibilità quindi magari non arrivi prima fa niente non arrivi secondo fa niente l'importante è che tu sia credibile che il momento in cui dai la notizia l'hai controllata hai le tue fonti e questo è il secondo punto avere le fonti e quindi costruire una rete e la costruisci col tempo con i contatti con l'esperienza costruire una rete che possa ogni volta funzionare da filtro per il controllo della notizia dopo di questo c'è la storia e cioè come raccontare la notizia che di per sé è fredda alla gente con i problemi che 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 ha io parlo per gli esteri non soprattutto non interessa o quindi sente far capire come quella notizia poi in realtà facendo parte di questo sistema che globale no come nel domino dun 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 parte da qui ma il domino arriva e arriva fino a te e la storia serve raccontare questo restando su sul tema appunto di comunicare una notizia volevo chiederle secondo lei qual è il livello di libertà di stampa in italia rispetto ad altri paesi in cui ha lavorato se si è sentita più vincolata più o meno libera nel confronto con altri paesi nel comunicare allora io ho lavorato veramente dappertutto perché ho coperto le guerre nei peggiori paesi sono stata 13 anni in america più di due anni in cina quindi dalle democrazie le dittature dalle mezze democrazia le mezze dittature io credo che in italia il problema non sia la libertà di stampa siamo un paese democratico non sia la libertà di stampa ma l'estrema influenza e l'estremo peso che la politica e il potere finanziario industriale hanno nell'informazione il problema che io credo sia ci sia in italia e riportare 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 l'informazione fuori dall'influenza politica e finanziaria ridare ai giornalisti la loro libertà siamo partiti se c'è libertà di stampa io dico ridare ai giornalisti la loro libertà e quindi i giornalisti devono riprendersi la loro libertà devono trovare il coraggio per sfidare le continue forti pressioni io penso soltanto una cosa penso alle interviste alle interviste che vengono fatte da noi ai politici e alle interviste che tu vedi negli stati uniti in gran bretagna in francia il politico concede l'intervista negli altri paesi il giornalista sfida il politico con quelle interviste ecco io vorrei tornare ad essere un un quinto potere con un'informazione indipendente forte perché abbiamo bisogno di un'informazione forte indipendente mai come in questo mondo momento per fare una domanda forse un po' più concreta e quindi concludere questo momento forse abbiamo una piccola curiosità ci domandavamo se lei avesse uno strumento che considera indispensabile per il suo lavoro uno strumento di cui non può fare a meno nel suo lavoro io ho cominciato con il quaderno la penna quindi non posso dirti il computer ho cominciato con quelle parabolone che sembrano ombrelli così per trasmettere quindi paradossalmente non posso neanche dirti il telefono devo dire una cosa perché forse anche per quella formazione per con l'amore per il cinema per che se c'è uno strumento fondamentale per me in questo momento è la telecamera e io oramai non non ragiono e penso attraverso le immagini più che attraverso le parole e per me l'importante ed è sempre stato l'importante cioè sei sei un giornalista ti trovi nei quando mi chiedono mai avuto paura hai avuto così no il pensiero è la telecamera c'è c'è quella luce rossa sulla telecamera stiamo riprendendo per me quella è la cosa importante perché tu devi fare rischiare e andare in qualsiasi situazione affrontare qualsiasi sacrificio qualsiasi pericolo ma questo deve avere un senso e il senso è quella luce rossa accesa perché quello è il mio lavoro arrivare raccontare dare il fatto dare la storia comunicarlo farlo sapere a tutti quindi se c'è qualcosa di fondamentale quello è la luce rossa e la telecamera grazie mille davvero